L'errore fondamentale commesso dalla pubblica amministrazione è quello di considerare che la povertà è un fatto legato solo al reddito. Non è legato solo al reddito. Ben trovati. Dati Istat, quindi non dati del debbio che non conterebbero niente. 2020, famiglie in povertà assoluta, poi vi dirò cosa vuol dire, così ci intendiamo. Perché se no a povertà vuol dire tutto e nulla. Diciamo cosa vuol dire, dopo. 2 milioni e 9 mila. 7,7% del totale delle famiglie. Nel 2019 eravamo al 6,4. Quindi 1,3 in più. Sapete quanti individui fanno in tutto perché siano famiglie? 5 milioni, 627 mila. 9,4% della popolazione italiana, se hanno 60 milioni, ci vuol poco. Essendo 5 milioni e 600 mila, siamo al 10%. Capite cosa vuol dire? Il 10%? 10% vuol dire che 1 su 10 è in queste condizioni. Non stiamo parlando del ponte sullo stretto di Messina. Opinioni diverse, c'è o non c'è, non è che muore qualcuno. Tendiamoci bene. Qui c'è un diritto fondamentale, sancito nella Carta dei diritti universali dell'uomo del 1948 e nella nostra Costituzione all'articolo 3. L'eguaglianza materiale, non quella formale di fronte alla legge. Materiale vuol dire che tutti devono essere messi in condizioni di rispondere ai propri bisogni essenziali. Tra i quali ce ne sono alcuni. Sapete quando una famiglia è in povertà assoluta? Quando almeno 4 di questi problemi su 9. Ve li dico. Non poter sostenere spese impreviste di 800 euro. Gli direte, ma come? Uno va in banca e secondo voi una famiglia povera in banca gli danno 800 euro di prestito? Gli dicono, arrivederci signora. Gli li dà qualcuno della sua famiglia? E se non ce l'ha? Poi, non potersi permettere una settimana di ferie all'anno. Ma come? Una settimana di ferie? Tutti se la possono permettere. No. Avere arretrati, mutuo affitto, bollette o altri debiti. Non poter avere un pasto adeguato ogni due giorni. Il che vuol dire con proteine della carne o del pesce o equivalente vegetariano. O equivalente vegetariano. Così è scritto nel rapporto ISTAT. Uno ogni due giorni. Vuol dire martedì e mercoledì, pranzo, cena, pranzo, cena. Non poter avere uno di questi quattro pasti con carne, pesce o equivalente vegetariano. Che vuol dire? Vuol dire che mangi sempre le uova? Vuol dire che mangi sempre il pane? Vuol dire che mangi sempre la verdura? E verdura congelata perché quella fresca costa di più? Questo vuol dire. Non potersi permettere una lavatrice. Non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione. Io sono testimone diretto per il lavoro che faccio di giornalista. ho visitato famiglie dove il riscaldamento c'è solo quattro ore al giorno perché se non sono fatto mettere autonomo perché di più non possono riscaldare. Compresente anziani e bambini e neonati. Non potersi permettere un televisore a colori, non potersi permettere un telefono, ma non potersi permettere un'automobile. Quando ci sono quattro di queste condizioni, uno è in povertà assoluta. Sapete quanti ce ne sono? Guardate intorno a voi. Guardate intorno a voi, a meno che non abitiate nel centro più centro più centro di una città. Se abitate lì, fate un giro in periferia. E se ci abitate in periferia non occorre che ve lo spieghi. Andate in qualche luogo d'Italia dove per cattiva gestione la situazione è terribile, le persone non possono permettersi di lavorare perché non c'è il lavoro. Sapete quanti sono in queste condizioni? Allora io dico, l'errore fondamentale commesso dalla pubblica amministrazione è quello di considerare che la povertà è un fatto legato solo al reddito. Non è legato solo al reddito. Uno può guadagnare 1300 euro al mese, avere moglie e due figli, ma avere uno di questi figli che ha una malattia degenerativa e di quei 1300 euro, 600 vanno magari in un infermiere che la ASL non passa perché il reddito è superiore a quello che sarebbe richiesto per avere l'assistenza domiciliare e quella famiglia lì non è solo in povertà assoluta ma è nell'angoscia assoluta. Perché c'ha questo bambino o questa bambina a letto che mentre passano gli anni rimane nella stessa situazione dal punto di vista mentale e peggiora da quella fisico. La povertà assoluta ci deve far riflettere sul fatto che quando una persona è in queste condizioni basta un niente perché da una situazione di tristezza e di violenza, di non poter rispondere ai propri bisogni passa in un attimo a una situazione di angoscia e disperazione della quale giustamente purtroppo non vede via d'uscita. non è aiutata da chi dovrebbe aiutarla e in questo caso si chiama Stato, non c'è nessun altro. E se non ci fossero in Italia le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutto quel mondo lì io sono sicuro matematicamente che quei 5 milioni sarebbero molti, molti di più. Lo so perché andando per le periferie per la mia professione lo vedo. Molte persone mi dicono io campo perché c'è la Caritas che mi porta da mangiare. Io campo perché il convento tal dei tali mi porta da mangiare. Ce ne sono tantissime che si sono anche tutte unite. Iniziativa meravigliosa. Bene, se non ci fossero quelle non si saprebbe come fare e il numero sarebbe molto superiore. Allora cosa c'è da fare? C'è che in Italia ci sono tutte le emergenze, tutte le occasioni sono buone per dichiarare un'emergenza. Naturalmente c'è un terremoto, c'è l'emergenza terremoto. Ci sono gli immigrati, c'è l'emergenza immigrati. C'è il covid ovviamente, c'è l'emergenza covid. Secondo voi con questi dati in Italia c'è un'emergenza povertà o no? Cosa dobbiamo aspettare per dichiarare uno stato di emergenza di povertà in questo paese? Ma a quanti poveri dobbiamo arrivare per dichiarare l'emergenza? 10 milioni? Un sesto della popolazione italiana? A quanti dobbiamo arrivare? Gli strumenti adottati fino ad ora non sono sufficienti. Ci vogliono più soldi e vanno tolti da altre parti e messi lì. Non c'è via d'uscita. Non c'è scappatoia. Occorre far così. Ci vediamo presto.